Dopo le polemiche e gli scontri a distanza del mese di agosto tra Comune e Calcio Napoli, la Commissione Sport si è riunita per decidere come strutturare un documento capace di regolamentare il fitto dello Stadio San Paolo. La mancanza di una convenzione crea numerosi problemi amministrativi, uno su tutti quantificare il fitto dell'impianto partita per partita. Il Napoli, dal suo punto di vista, ogni settimana ha delle spese per il campo di gioco, per la tribuna autorità, per gli steward. Spese queste che vanno decurtate dal prezzo fissato per l'affitto dell'impianto. L'assessore Borriello su questo punto ha chiarito. Esistono dei dati che sono concreti, dei dati fissi, intanto il numero di spettatori, perché se il meccanismo oggi è utilizzare il campo a domanda individuale, che è un algoritmo prettamente amministrativo, allora è chiaro che si applica questo famoso fisso che può essere di 5.000 euro, poi una percentuale del 10% di quello che è l'incasso lurdo, sottratto poi alcune spese che cadono esclusivamente a carico del calcio Napoli, come la manutenzione del terreno di gioco. Il campo è agibile, quindi non mi sembra che non sia adatto, è perfettamente in questo momento praticabile in ogni suo settore. Certo, le condizioni di manutenzione sono quelle che conosciamo tutti, ma sulla inagibilità, che è l'argomento minimo, stritto, necessario per poter giocare in un campo, questo viene rispettato, quindi io non vedo alcuna difficoltà. Intanto si spera nelle prossime settimane si possa avere un incontro chiarificatore tra Palazzo San Giacomo e Aurelio De Laurentiis. L'assessore allo sport, dopo le accuse del mese di agosto, mosse al patron del calcio Napoli, ammorbidisce i toni. Farete ancora un passo, una telefonata da Aurelio De Laurentiis oppure no? Noi abbiamo le porte aperte, l'amministrazione è un'amministrazione trasparente. Quando il presidente vuole dedersi, le porte di San Giacomo e le porte del secondo piano di Palazzo San Giacomo sono a disposizione della società sportiva.